Tutto è partito da un'indagine della Procura di Cosenza, ma i dispositivi autovelox non a norma sono stati riscontrati da nord a sud della penisola, così scattano i sequestri in tutta Italia. La squadra di Polizia Giudiziaria della sezione della Polizia Stradale Cosentina ha dato infatti esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Cosenza al termine delle indagini delegate dalla Procura riguardanti la non legittimità del sistema di rilevamento delle violazioni della velocità effettuate con la strumentazione denominata TX Speed versione 2.0. Il provvedimento riguarda i misuratori di velocità attivi non solo sulla rete provinciale calabrese, si tratta della statale 107 e la provinciale 234 del territorio della provincia di Cosenza e la statale 106, ma anche in altre zone della Calabria, tanti comuni anche del versante ionico che utilizzavano il dispositivo. Ma poi tutto si è allargato in tante altre zone d'Italia, visto che il sequestro riguarda ora apparecchiature presenti in vari comuni e città quali Venezia, Vicenza, Modena, Reggio Emilia, Pomarico, Cerignola, Pianezza ed ancora Piadena, Formigine, Arcola, Carlentini, San Martino e Impensilis. Insomma, un'indagine lunga e complessa ed articolata, irta di ostacoli in considerazione della delicatezza della materia e delle implicazioni economiche che riguarda il settore, hanno fatto sapere gli investigatori che comunque mantengono il massimo riservo. Certamente che ora ci saranno delle rivendicazioni da parte degli autenti che, ovviamente, non intendono pagare le salatissime multe. A Lega, in primis con il ministro Matteo Salvini, è al lavoro per mettere ordine in una situazione di caos, si legge in una nota del Carroggio. La salvaguardia degli utenti della strada e dei pedoni è una priorità, ma senza tartassare i cittadini con migliaia di autovelox illegali che non aumentano la sicurezza, ma solo le multe.